come si fa a trasferire convinzione allora per trasferire convinzione bisogna lavorare su tre su tre aspetti primo aspetto con entusiasmo cioè il nostro colloquio non è mai un colloquio tecnico scrivetelo è sempre 80 per cento energia e 20 per cento tecnica questo non vuol dire che le slide non devono essere belle non vuol dire anche stasera noi abbiamo una buona tecnica però non succede niente se ogni tanto si apre un microfono quello che vi arriverà che vi rimarrà fra un anno fra sei mesi di quello che abbiamo fatto non è questo scrivetelo le persone si dimenticano di quello che dite ma si ricorderanno per sempre come le avrete fatte sentire e questo non ha a che vedere con la tecnica che vedere con l'entusiasmo con l'energia che passa ecco perché dobbiamo preoccuparci ogni volta che abbiamo a che fare con un collaboratore facciamo un colloquio di avere un livello energetico buono alto ma non vuol dire saltare sui tavoli davanti alla persona vuol dire avere un livello di energia interiore che ci permette di affrontare col sorriso di influenzare positivamente le persone perché è sempre uno scambio e in questo momento storico vi avrei detto le stesse cose due anni fa che il nostro scopo è positivizzare chi incontriamo ma proprio in termini di ionizzazione non so chi di voi abbia studiato fisico chimica ma le nostre i nostri le nostre cellule i nostri atomi hanno delle polarizzazioni noi dobbiamo dare polarizzazione positiva la gente ci arriva scarica oggi più che mai quindi questa è la prima è il primo grande compito e scrivetelo per dare devi avere guardate anche nella visione più altruistica che potete avere qua ci sono un sacco di donne io lo so che che avete un po la sindrome della croceressina abbiamo un po questa idea che dobbiamo aiutare tutti vi prego scrivetelo se vuoi essere altruista devi essere egoista non puoi dare ciò che non hai quando tu sali sull'aereo anche se hai tuo figlio di fianco e ti spiegano che nel caso in cui l'aereo si depressurizzasse vengono giù le bombe le il primo boccaglio non lo devi mettere a tuo figlio siccome ami tuo figlio gli vuoi salvare la vita il primo boccaglio devi mettere per te sempre noi dobbiamo ricordarci che se vogliamo dare dobbiamo avere quindi dobbiamo preoccuparci del nostro livello di energia del nostro entusiasmo dobbiamo dobbiamo curare il nostro giardino non dobbiamo preoccuparci delle farfalle che arrivano dobbiamo preoccuparsi di pulire il giardino le farfalle arrivano quindi energia un bel livello di energia è il motivo per cui devi avere le tue tecniche io ho sempre utilizzato le tecniche per alzare l'energia no una è la musica ad esempio ognuno di noi ha una playlist per la pressione e ognuno di noi ha la playlist per i limonamenti e ognuno di noi ha la playlist per caricarsi usa quella playlist lì ognuno di noi ha delle persone energetiche fai una chiamata in questo caso di solito le sponsor dovrebbero avere questo compito no che in un minuto uno sponsor ti dà una caricata le letture e va bene cioè ognuno di noi l'importante che traga energia e non andate a fare i colloqui perché l'errore soprattutto dopo un po scrivete questa non è un'attività che si fa in funzione di quanti colloqui fai punto ma è come li fai con quale energia con quale con quale vibrazione quindi primo entusiasmo secondo sincerità come fai a essere convincente come fai a comunicare con convinzione devi essere sincera sincera dal latino sin c'era senza c'era senza maschera tu arriva la tua convinzione se dici la verità è inutile che decanti dei prodotti che non usi bisogna che dei tuoi prodotti ti innamori bisogna che l'ordine lo fa il primo del mese non il 30 per farla qualifica perché non pigliamoci per il culo dai cioè si sente il nostro subconscio si sente voi dovete partire dal presupposto che il subconscio si è maturato in milioni di anni è il motivo per cui magari una persona dice delle cose giuste però la tua pancia ti dice di no perché ti dice di no perché è arrivato qualcosa che vibrava male allora noi dobbiamo far arrivare la sincerità ragazzi sapete qual è la più grande tecnica di vendita è la verità la verità è la più grande tecnica di vendita perché non ha bisogno di tecniche non è quando tu dici la verità non hai bisogno di tecniche devi solamente dirla bene nel modo giusto e nei tempi giusti ma non hai bisogno di tecniche di che tecniche hai bisogno quando dici la verità la verità rende liberi puoi guardare negli occhi una persona non puoi non devi abbassare lo sguardo mai che problemi hai se tu sai che stai facendo una cosa giusta col cuore buono con facendo del bene anche tuo ma gli altri ma perché devi aver paura però dentro di te gli occhi non li abbassi quando tu sai che stai raccontando la verità quando tu sai che stai un po recitando un po bleffando si sente e non dura non dura non dura e poi costa tantissimo madonna il blef costa tantissimo credetemi se dopo 20 anni sono qua è perché ho capito che all'inizio imparato un sacco di tecniche o poi e poi ho capito che c'è una tecnica che vale più di tutti la verità la verità non ha bisogno di spiegazioni la verità non ha bisogno di nessun tipo di argomentazione la verità e poi dura nel tempo è terzo consentimento cioè se parli col cuore arrivi al cuore se ci metti un po di passione se fai puoi sbagliare anche congiuntivi non succede niente puoi sbagliare un prezzo poi sbaglia puoi sbagliare quello che vuoi se sbagli col cuore le persone lo sentono lo riconoscono sentono se c'è il cuore buono sentono se l'intenzione buona e arriva questa cosa qua e purtroppo siamo in un'epoca storica invece in cui ci hanno affermato ci hanno cresciuto ci hanno messo in testa delle convenzioni sbagliate su questo il modello di successo degli ultimi 20 30 anni è un modello di successo in cui vincono i furbi non è vero non vincono i furbi i furbi possono ottenere più risultati nel breve periodo ma punto primo esiste la coscienza che l'organo spirituale di ognuno di noi per cui noi possiamo vedere quello che ottengono come risultati ma non saprai mai come stanno quando va nel letto perché puoi scappare da tutti ma non scappi da te secondo ve lo dico perché ho avuto davvero la benedizione di ottenere tutto quello che volevo dal puntista materiale credetemi non è quella la partita per cui ricordiamocela questa cosa ricordiamoci che scrivetelo non abbiamo a che fare con codici abbiamo a che fare con persone non è un colloquio è una porta verso un nuovo mondo vorrei davvero che ce la mettessimo in testa perché questo è il motivo che mi fa essere qua dopo 26 anni a gridare a sfinire la voce nel ricordarci che si in attività economica ma è molto di più è un modo per svegliare le coscienze è un modo per dare una possibilità è un modo per far tornare delle mamme a gioire è un modo per far tornare della vitalità in una famiglia in una coppia è il modo per aprire quel cassetto dove ormai quei sogni hanno fatto la muffa è un modo per tornare a credici è un modo per tornare a impegnarsi è un modo per schiudere quella rosa di gerico e tornare a pensare al futuro ricordiamocelo questo se non lo diciamo col cuore si sente le persone e concludo potete anche dirglielo guardate che c'è stato un periodo in cui colloquio li facevo così dopo che avevo parlato un'ora anche questa se la usate questa spacca dopo che aveva parlato un'ora li guardavo negli occhi se guardi lo so che non c'è capito un cazzo non c'è capito un cazzo né del network né dell'azienda né dei prodotti non c'è capito un cazzo non c'è capito un cazzo neanche io però guardami negli occhi guarda io ho 22 anni in 3 anni 30 quelli che volete fidati di me non sono qui per incularti su cui per costruire insieme fidati guardate negli occhi diteglielo la gente vuole solo questo qualcuno di cui poter si fidare